farmaco veterinario set bac ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo il farmaco veterinario set bac fatra industria farmaceutica veterinaria spa ultimo aggiornamento 29 marzo 2021 a cosa serve confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione principio attivo indicazioni posologia tempi di sospensione a cosa serve set bacchè un medicinale veterinario a base del principio attivo vaccino salmonella interi tipis inattivato più vaccino salmonella tifinurium inattivato appartenente alla categoria degli vaccini e nello specifico vaccini batterici inattivati compresi nicoplasma toxoide clamidia è commercializzato in italia dall'azienda fatra industria farmaceutica veterinaria spa set bacch può essere prescritto con ricetta rn rt ricetta medica in triplice copia non ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare fatra industria farmaceutica veterinaria spa concessionario fatra industria farmaceutica veterinaria spa ricetta rn rt ricetta medica in triplice copia non ripetibile principio attivo vaccino salmonella interi tipis inattivato più vaccino salmonella tifinurium inattivato gruppo terapeutico vaccini forma farmaceutica flaconi iniettabili confezioni set vacchini sc1 flacone 250 ml set vacchini sc10 flaconi 250 ml principio attivo cultura inattivata di s enteridis 10 59 ufc cultura inattivata di s tifinurium 10 59 ufc indicazioni indicato per la vaccinazione delle galline destinate alla produzione di uova da consumo per la riduzione della colonizzazione dell'ovaio da parte di cpd s enteri td 6 s tifinurium posologia 1 dose uguale 0,5 ml barra capo somministrazione per via sottocutanea nella regione del collo programma vaccinale vaccinare all'età di 68 settimane delle pollastre designate alla produzione di uova da consumo effettuare un richiamo tra la 14 a 16 a settimana di età tempi di sospensione 0 giorni fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato